Le proposte che presenterete al Parlamento, quali sono le proposte? Sono quelle dell'agenda che abbiamo già discusso in rete, tra cui il reddito di cittadinanza che ce lo chiede l'Europa dal 1992, poi ci dicono che siamo populisti, una legge anticorruzione, una legge sul conflitto di interessi, l'abolizione dei finanziamenti pubblici ai partiti, l'abolizione dei finanziamenti pubblici all'editoria, se i giornali vogliono continuare a disinformare che lo facessero con i quattreni privati e poi non con i soldi nostri. Queste sono le idee di buonsenso sane che porteremo in Parlamento. Se ci sarà qualcuno disposto a discuterne, ne discuteremo assieme, altrimenti non sappiamo che fare.